Far incontrare le aziende con le eccellenze del mondo della ricerca e universitario, così la regione si sta muovendo per mettere in rete e dare più competitività alle realtà emiliano-romagnole in campo aerospaziale. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a costruire un distretto aerospaziale dove le principali componenti, che chiaramente sono le imprese che già lavorano nel campo, i nostri laboratori di ricerca, l'università, il territorio, la formazione, la ricerca, quindi i nostri player per la competitività di questo territorio, possano fare massa critica e partecipare, anche se le nostre aziende sono piccole aziende, all'interno di cluster nazionali europei. C'è un grande mercato dove le nostre imprese, che sono molto flessibili, sono molto brave, hanno delle caratteristiche che spesso competono in modo qualitativo, anche con i grandi player dell'aerospazio, credo che possano avere davvero una grande possibilità di successo all'interno di questo terreno. Si parla tanto di fuga di cervelli, in questo caso i cervelli li vogliamo tenere in Emilia-Romagna. Sì, noi stiamo facendo un lavoro molto concreto per connettere tutti coloro che noi stiamo formando, quindi l'alta formazione dell'università che stiamo facendo, con le nostre imprese. Credo che questo lavoro a breve inizierà a dare i frutti anche in termini proprio quantitativi.